Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di oggi, venerdì 2 settembre. Su tutti quanti i giornali oggi si parla ovviamente della questione del Movimento 5 Stelle a Roma e del fatto che 5 persone importanti se ne vanno dalla Giunta e dalle società collegate alla Giunta Grillina. Allora io vorrei fare un esperimento su questo, vorrei che lo faceste tutti quanti con me. Noi siamo stati abituati a pensare nel passato in maniera un po', come possiamo dire, bianco o nero. Se una cosa la faceva Berlusconi, gli anti-Berlusconiani dicevano che era sbagliata, a prescindere, e la stessa cosa probabilmente, forse un filo di meno, si faceva quando le cose le faceva Renzi, perché certi Berlusconiani, per esempio, sulle riduzioni delle tasse avevano un atteggiamento un po' più libero, liberale, nei confronti di Renzi. Sul Movimento 5 Stelle invece è tutto bianco o nero, se ci stanno sulle balle tutto quello che fanno è sbagliato, tesi Ferrara, e non si riesce mai a ragionare bene, secondo me, con freddezza. Perché vi dico questo? Perché voi sapete cosa penso del Movimento 5 Stelle, penso che la sua demagogia di onestà, onestà, trasparenza, tutte queste minchiate qua, poi portano a quello che è successo a Roma, perché il tema è guidare bene una città. Voi prendereste a guidare un'azienda con 50.000 dipendenti, miliardi di fatturato, una signorina che non ha mai avuto nessuna esperienza in vita sua di gestione delle aziende? Probabilmente no. Mentre noi invece, proprio per l'inesperienza, ci affediamo a questa signorina della gestione di Roma. Ma io non ne voglio fare una questione politica, ne voglio fare una questione, diciamo, razionale sulle cose che sono avvenute. Quindi, fatta questa premessa, vediamo quello che è successo. Se ne vanno via il capo di gabinetto e l'assessore al bilancio appena scelti dalla Raggi. E insieme a loro se ne vanno via tre figure apicali, come si dice, amministratori unici, presidenti, di alcune società chiave che sono quelle sulle dentizie urbane e sui rifiuti che non funzionano a Roma. Dopo 70 giorni i giornali ovviamente insuppano il pane su questo, i giornali non hanno mai amato la Raggi tranne il fatto quotidiano, dicendo di tutto su questa giunta. Oggi ritorna con un fondo su Repubblica Giannini, quello che conduceva sul Re 3 una sfortunata stagione di Ballarò. Però scrive una cosa che, devo dire, io condivido. Dice Giannini, ma il PD è meglio che non maramaldeggi troppo sulla situazione della giunta Raggi? E io questo un po' lo condivido. C'è bisogno di Giannini su Repubblica per ricordare che cos'era la gestione del PD di Roma? C'è bisogno di Giannini su Repubblica per ricordare i vari rimpasti che ha fatto Marino, i suoi assessori che venivano e uscivano, i consiglieri comunali? Bisognava ricordare le scelte del capo del vigile urbani o le scelte degli assessori alla nettezza urbana fatti da Marino e prima di lui Alemanno? Cioè Roma è una città difficile da gestire. Adesso io non faccio dell'inesperienza un fiore all'occhiello, come ha fatto il Movimento 5 Stelle, dell'onestà senza competenza la soluzione dei problemi. Però insomma, io dico, da che pulpito arriva? Tant'è che oggi l'Unità in realtà usa un altro pulpito che è molto più simile a quello mio e dice fuga dal Campidoglio e in un pezzo, in apertura dell'Unità, i boomerang della demagogia. Cioè a forza di fare demagogia, poi dopo ti vedi accostretto a governare una macchina molto complessa. Questa è la prima ipotesi. La seconda, il primo scenario, il secondo scenario è, grazie a chi dice che faccio più proseriti sulla rete che sulla RAI, il secondo scenario però sul Movimento 5 Stelle è la sindaca Raggi, però secondo me aveva individuato all'interno della sua giunta una cricchetta che non funzionava. Quando tu mandi via un capo di gabinetto e il capo di gabinetto dice la seguente cosa in un'intervista oggi in un giornale Credevo di essere stata chiamata per garantire la legalità, ma la verità è tutt'altra. Beh, insomma, questa mi sembra una minaccia. Cioè il capo di gabinetto che è stata epurata si rende conto dopo 70 giorni che c'è qualcosa che non va sulla legalità e se così fosse non va in procura a raccontarlo. Mi sembra una minaccia, non mi sembra una cosa proprio da capo di gabinetto, da ruolo che si occupa delle istituzioni. Quel Marcello Milenna, tanto decantato dal Movimento 5 Stelle, da Milena Gabbianelli, da tutto oggi ne parla forse qualche giornale di tutti gli intrecci, forse il messaggero parla di questi intrecci dell'assessore al bilancio, è anche quello che alla Consob ha fatto dei casini pazzeschi. Lui sostiene di essere stato un grande uomo che ha combattuto contro il malaffare della Consob e il Movimento 5 Stelle ci ha creduto, ma si è già capito che questi signori, capo di gabinetto, assessore al bilancio, avevano piazzato dei loro uomini alle municipalizzate ed era una specie di corpone unico all'interno di una giunta che in realtà, fino a prova contraria, viene decisa da un sindaco. Io questo vorrei, cioè che chi è in due gli italiani eleggono qualcuno, quel qualcuno poi alla fine governi e che non sia ostaggio di queste cricchette che si vanno a formare. Non sto con la Raggi, ma penso soltanto che quando uno è stato eletto gli si permetta di governare, non gli si rompono le balle ogni dieci giorni con tutti questi veti incrociati, personaggi incrociati. Tra l'altro, qui è il terzo elemento che mi fa sorridere, questo è un paese morto e sapete perché è morto? Perché in questo cazzo di paese ci sono due regolamenti che stabiliscono come scegliere un capo di gabinetto, c'è l'articolo 90 e c'è l'articolo 110. In questo cazzo di paese un sindaco non può nominare capo di gabinetto il suo cane, il suo cavallo, ma deve rispettare delle leggi, va bene? E siccome rispetta queste leggi, non sono chiare, perché l'avvocatura del sindaco dice una cosa e Cantone ne dice un'altra, oggi c'è ragione Libero che fa una foto in prima pagina con qualcosa di Dio Cantone. Oggi se Cantone, che è il capo dell'anticorruzione, non mette il suo timbro non si può fare nulla in Italia. Vi piace questo paese? Vi piace un paese che per fare una ricostruzione del terremoto ci vogliono 1500 leggi, una in contrasto dall'altra? Vi piace questo paese in cui un sindaco per fare un capo di gabinetto non sa se applicare l'articolo 90 e l'articolo 110 e il suo avvocato del Campidoglio gli dice una cosa mentre invece la giunta ne dice un'altra e il CSM ne dice un'altra. Questo è un paese che morirà di troppe leggi, troppe norme, troppi vincoli che ci siamo dati, sapete perché? Onestà, onestà, onestà. Per cercare di imbrigliare i politici, imbrigliare gli imprenditori, imbrigliare i cittadini che sono truffatori, in questo paese non si fa nulla, nulla, non riusciamo a fare nulla. Ragione, Romit, Dental, ora, al diavolo la burocrazia che ci siamo creati. Ripeto, è una cosa che posso dire soltanto qua su Facebook. Meglio un ladro, un corrotto fuori che 99 persone per bene su 100 che non riescono a fare nulla per le leggi fatte per uccidere quel corrotto. Chiaro? E questo è il punto che ci dobbiamo mettere. Preferisco avere un sistema che permetta di funzionare, di sbagliare un sindaco che 900 giorni spesi a interpretare le leggi. Questa cosa qua però bisogna spiegarla sia ai grillini che oggi ne sono vittime sia a tutti gli altri che sono bravi a portare soltanto le leggi. Io dell'uscita di Minenna dal bilancio del Campidoglio non piango affatto. Libero ve l'ho detto, l'unità ve l'ho detto, fantastico il giornale, oggi in una cartina, pochi comuni governati dal 5 Stelle ma tanti disastri. Devo dire che il Movimento 5 Stelle ha una forza che nasce appunto dalla sua gioventù, anche dal suo parlare chiaro, però poi dopo quando si trova a governare non riesce ad avere la forza che dovrebbe. Fertility Day, ancora oggi ci tocca parlare del Fertility Day. Sto iniziando un po' a cambiare idea sul Fertility Day, sto iniziando a cambiare un po' idea perché oggi leggo Serra su Repubblica che dice che paragona l'astio che si è avuto nei confronti della stupidaggine e il fatto che erano tutti contro il Fertility Day lo paragona all'invasione nazista fatta in Polonia. Tutti contro il Fertility Day, quasi quanto tutti erano contrarie all'invasione nazista in Polonia. Andiamoci piano perché intanto a me tutte queste cose non mi fanno molto ridere, ma soprattutto una cosa che invece mi ha fatto pensare è la straordinaria... Renzi si smarca subito al Fertility Day perché quando vede che su Twitter tutti sono contro al Fertility Day, tutto quel mondo là dei twittaroli, cioè pipparoli mediatici, è contro la Lorenzin, beh allora insomma ci si sfila anche lui, però a quel punto mi è venuto in soccorso Andrea Marcenaro. Andrea Marcenaro e Renzi è contro dicendo io non vedo nessuno che fa figli perché vede un cartellone pubblicitario, io penso che facciano figli perché vedono un asilo e uno dice beh questa è una cosa di buonsenso che ha detto Renzi, insomma uno non è che fa figli per un cartellone pubblicitario, ma perché non ci sono soldi, non ci sono gli asili, insomma mica ha detto una cosa stupida Renzi, poi dopo pensi un'altra cosa, pensi ma quante persone, quante volte però lo Stato ha speso un sacco di soldi nel fare i cartelloni pubblicitari per l'AIDS, per l'alimentazione, per gli animali, allora non serve a nulla la pubblicità in ogni caso, ma la cosa che più mi ha fatto pensare è Andrea Marcenaro oggi che in quattro righe mi ha fatto capire tutto sul Family Day e dice in effetti la gente non fa figli e se ne parla molto della mancanza di servizi, se ne sta parlando molto della mancanza di servizi, della mancanza di asili, della mancanza di soldi, questi sono i veri motivi per i quali che un governo dovrebbe affrontare, se ne è parlato molto scrive Andrea Marcenaro nella nursery su un barcone proveniente dalla Siria, allora vuole dire Marcenaro, ve lo spiego perché l'ho raccontato male ovviamente in questo video, dice ma ragazzi ma che stiamo a dire, i paesi poveri con le guerre che emigrano, che facciano migliaia di chilometri sono pieni di bambini, quindi forse c'è qualche scollegamento tra i soldi e i bambini, ci sono ancora dei popoli che fanno bambini nonostante non abbiano servizi, esili dito e addirittura rispetto per le donne, insomma il tema è un po' più complicato di come l'ha messo Renzi ed è molto divertente la battuta fatta oggi da Marcenaro, altro che soldi, forse un po' più di cultura del fertility, questo direbbe il laicissimo Marcenaro, servirebbe a fare figli, intervista oggi a Luca Maestri pensate un po' voi, l'uomo che si occupa delle tasse per Apple è un italiano, viene da dire perché noi italiani ce ne intendiamo su come vaderle, questa è una brutta battuta, la vediamo se la farà domani Spinoza o Marcenaro a me riesce male, ma quando è intervistato oggi da Fubini c'è una cosa che non mi è chiara e che non spiega bene il CFO di Apple, dice noi spendiamo 400 milioni di tasse, paghiamo 400 milioni di euro di tasse in Europa, però bisognerebbe obiettare che fa 53 miliardi di utili, di cui una gran parte in Europa di questi utili, quindi insomma i 400 milioni, cioè il valore assoluto di queste tasse in Europa è ridicolo perché 400 milioni di euro di tasse in Europa è niente rispetto agli utili che fa, quello è il tema fondamentale e l'altra questione che è un po' una minaccia che fa Luca Maestri che è il CFO di Apple intervistato oggi dal Corriere della Sera e dice le multinazionali dopo questa cosa che è successa in Europa non si fidano più del vostro continente, è vero, può essere vero, il nostro è un continente un po' incasinato i burocrati di Bruxelles sapete quante volte lo ho attaccati, non sono neanche convinto che sia giusta questa cosa che è stata fatta, però vi chiedo e mi chiedo, sarà pur vero che le multinazionali non si fidano dell'Europa, ma ricordiamoci che l'Europa è il continente più ricco ancora oggi al mondo, quindi una multinazionale che non abbia una presenza in Europa non è che gli conviene molto perché i suoi iPhone se non li vende in Europa è difficile che li venda in Asia dove c'è Samsung, li venderà in America dove le tasse le paga al 60%, non fate tanto i fenomeni sull'Europa perché sapete bene cosa ne penso io dell'Europa, cosa penso di Bruxelles, di Francoforti, tutte queste pippe qua però non mi vorrei far sentire dire da Luca Maestri che le multinazionali se ne vanno dall'Europa bellissimo, oggi Antonio Socci sul Libero che dice le visioni climatiche del Papa e quelle sull'immigrazione da leggere per chi è appassionato di Papi e soprattutto delle svolte green, diciamo boniste di Papa Francesca ultima domanda che mi faccio e vi faccio, ma questi pezzi, queste paginate, 3-4 pagine che si fanno sul Festival di Venezia ma chi se le legge? Per me è una fortuna perché io da parte degli spettacoli a questo punto me la guardo e me la salto velocemente, 2 palle così sto Festival di Venezia, ci può essere un mezzo film buono tra l'altro un filmetto buono, ma qua sembra che queste pagine sui giornali di Venezia vengano fatte più perché vi mandiamo troppi inviati, troppi giornalisti che sono abituati da 30 anni a seguire Venezia più che per il vero interesse da parte dei lettori che non vanno al cinema, men che mai vanno a vedere i film di Venezia che sono due palle così mentre i giornali si riempiono di pagine su Venezia, un po' come faranno nei prossimi giorni sul Cernobbio dove arriva il gota dell'economia e della politica mondiale, vanno talmente tanti giornalisti là che bisogna fare qualche pezzo direi che questo è tutto, François buongiorno, Disuguaglianza fa bene, il libro che esce il 15 settembre nei prossimi giorni inizierò a far vedere forse già oggi la copertina e mi raccomando vi romperò veramente le scatole voglio vedere quanti di voi lo andranno a comprare nel puro spot pubblicitario, non avrò vergogna di farlo e vi metterò un po' di quelle frasi che contraddistingueranno questo libro La disuguaglianza fa bene, manuale di sopravvivenza per un liberista un libro che non è adatto a chi ha molto, come possiamo dire, in considerazione il socialismo mettiamola così, vi saluto, vi do appuntamento domani, sabato quindi 15 il libro, 20 Matrix, sarà un periodo incasinatissimo ma con voi tutte le mattine cercherò di esserci, ciao